Voga2016, qual è il tuo videogame preferito? Allora, facendo il tecnico informatico ed essendo tutto il giorno davanti a questi schermi, l'ultima cosa che mi piace fare per rilassarmi è mettermi davanti a uno di questi schermi, quindi è estremamente raro che io lanci dei videogame. Certamente la cosa che preferisco, la cosa che adoro, che ho installato anche sul portatile sotto ScoomVM, è la saga di Monkey Island. Io ho avuto i primi due capitoli in originale, mi sono scaricato le immagini dei dischi sulla macchina Linux, quindi ho Monkey Island 1 e Monkey Island 2 installati sotto Linux, sotto ScoomVM, e sicuramente nel corso di questo agosto, appena avrò la possibilità, nella settimana di ferragosto, riprenderò con piacere a giocare a Monkey Island, perché è una cosa che mi rilassa tantissimo e mi piace veramente tanto col videogame. Quindi questo è tutto. E tu, invece, qual è il tuo videogame preferito? Fammelo sapere con un commento qua sotto. Bene, io sono Grizz, io ho concluso, noi ci vediamo domani!